Il pallone è stato di 1 a 1 tra Terdic Napoli contro Chiave e Tieri Pellone è un bellissimo gol tra porti sul sinistro, incroci nel set, secondo palo, bellissimo Cosa manca per vincere? Il centrocampo, si vince tutto il centrocampo Ah è finito, grazie Pellone Stiamo andando da Ciro a Cardo Ciao Ciro a Cardo Ciao Ciro a Cardo 1 a 1 questo pareggio che serve a poco per la salvezza Dobbiamo cercare di tirare di più in porta, dobbiamo essere più concreti Dobbiamo portare i tre punti a casa Perché sono tre punti della vita E cosa manca per portare? Dobbiamo essere più concreti sotto porta E basta, poi siete i migliori Va a farti la canna, sai che io? Senti in difesa, questa vittoria è importante Il ragazzo dice che vinciamo il campionato Va bene, in bocca al lupo Ciro In bocca al lupo Grazie Buona salvezza Ciao A domenica amici, telespettatori Benvenuti su SKTV per il post partita tra Atletico Napoli e Chiavettieri Partita terminata 3 a 2 a favore di questi ultimi Siamo qui con i migliori in campo Ovvero in particolare MVP di questo match Lombardi Il portiere dei Chiavettieri E Pellone attaccante tra Atletico Napoli Pellone, partiamo da te Una partita, un primo tempo strepitoso Dove avete, diciamo, sempre meritato qualcosa in più rispetto agli avversari Inizio del secondo tempo è una partita molto equilibrata Loro hanno incominciato a venire un po' con la testa fuori dal sacco Poi avete un po' ammollato No, c'è una stanza inizia di tutti quanti noi Nel primo tempo abbiamo dato tutto Poi nel secondo tempo siamo un po' calati Diciamo che tu ci hai provato più e più volte Il postiere qui Che ti ha tolto la partita Poteva andare diversamente Se entravano quelle due o tre palle Sicuramente Vuoi salto tra qualcuno Dedicare la prestazione a qualcuno in particolare? Soprattutto a mio migliore amico Gianluca Che mi ha fatto venire qui a giocare su questo campo Ti piace il torneo? Sì, sì, è bello Di poche parole, Pellone Comunque Vabbè, allora Pellone, ti darci dei complimenti Ti auguro in bocca al lupo per il proseguo Ciao, ciao Lombardi, una partita strepitosa la tua Lombardi Prima di analizzare la travestazione in particolare Sei d'accordo con la che analizzare Se è un primo tempo dove voi avete avuto un po' di difficoltà? Sì, perché comunque diciamo che non abbiamo trovato occasione Abbiamo tirato poco Abbiamo cercato per forza di spondare la difesa E non ci siamo riusciti In secondo tempo abbiamo trovato più di squadra Quindi nel break ci siete parlati Esattamente No, più di altro ci siamo incoraggiati Perché comunque ce la potevamo fare Il nostro obiettivo sono i play-off Quindi speriamo bene Alla fine grazie a te Parate stupende Hanno staccato la rinocerina Quindi di tre punti Quindi Volevi intervenire dall'allergia No, no, perché è il mio ex sportiere Quindi un po' c'è il rancore Ah, ho capito Lombardi Quindi vuoi assorbettire il play-off dichiarato Vogliamo prendere i maledetti Ah Sì, abbiamo 12 punti in più Ci arriverete? Speriamo bene L'ultima partita dovrebbe essere più semplice Se siamo al completo vinciamo Vabbè, io ti faccio i miei bocca al lupo Complimenti a te e alla squadra Vuoi dedicare la prestazione a qualcuno in particolare? A tutta la mia squadra e a Simone Salvarezza Ma che stronzi Ciao ragazzi Bocca al lupo Ciao ragazzi